Il nostro concorso, anche per serietà, presenta, ovviamente, quando premiamo la narrativa, l'opera di poesia che ha vinto nella precedente edizione. Quindi chiamiamo la professoressa Idalia Spess, che ha vinto la sezione di poesia a giugno, come ricordava il Carlo Sbunati, con l'opera Costellazioni. Vogliamo un applauso per la professoressa. Mi diceva che è molto importante, ma ci ha portato un'opera toccantissima. Prima di tutto il perché di Costellazioni. Costellazioni perché, al fine, quando, al fine, rileggendo la raccolta, ho avuto una sensazione strana, un po' incantata, un po' magica, di non essere stata io, di aver portato quei testi di dove si trovavano, ma, in qualche modo, che quei testi si fossero avvicinati nel tempo da soli, avessero scelto di unirsi a formare delle figure, delle narrazioni, qualcosa di solidare e di duraturo, che poi era rimasto nel profondo degli uni episodi. Grazie a tutti.